Io sono, mi chiamo Lina Petrone e sono una mamma, una casalinga e una volontaria. Io faccio parte della rete di solidarietà popolare. Noi ci prendiamo cura e ci battiamo per i senza fissa dimora, per le persone bisognose. Io sono una persona molto semplice, non avrei mai pensato in vita mia di trovarmi qua al Parlamento in questo posto. Mi è stato detto di vestirmi carina, però diciamo che il mio vestito è questo. E potere al popolo mi permette di fare politica così e perciò io ho accettato la sfida. Questo volevo dire. Ho messo al contrario. È lei la cuoca di Lenin. È lei la cuoca di Lenin.